E' un consiglio per l'acquisto, nel senso che noi abbiamo fatto un disco, come tanti artisti e come un celebre giocista, diciamo spesso a nomi di concerti che se volete un ricordo della serata e vi è piaciuto il concerto, comprate il CD perché è la stessa cosa. Se invece non vi è piaciuto, compratelo lo stesso perché è una cosa completamente diversa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.